Come ospedale Gagliazzi Sant'Ambrogio siamo orgogliosi di questa iniziativa, la collaborazione con la scuola di restauro a Botticino e con Valore Italia, sia per la vicinanza anche geografica facendo parte tutti del contesto di Mind, quindi un ospedale del genere con tutte le più moderne tecnologie si mette a disposizione oltre per i pazienti, per curare al meglio i pazienti anche per questo tipo di attività che sicuramente può essere una prima collaborazione anche per il futuro. Ripeto, orgogliosi di questa attività potrebbero nascere ulteriori collaborazioni anche nel futuro, sia da un punto di vista del restauro ma anche da altri settori di applicazione mettendo a fattore comune tutte le altre tecnologie che questo modernissimo ospedale può offrire.